Grande successo per l'edizione online di Porte Aperte in Unicam, il consueto appuntamento con l'iniziativa di orientamento alla scelta universitaria. Sono stati più di 500 gli studenti degli istituti superiori collegati da tutta Italia che sono stati accolti virtualmente in Ateneo per conoscere l'offerta formativa e dei servizi dell'Università di Camerino. La mattinata si è aperta con una sessione plenaria in diretta streaming nel corso della quale sono intervenuti il rettore unica Claudio Pettinari, la delegata all'orientamento Valeria Polzonetti, il presidente del Consiglio degli studenti Riccardo Cellocco, il prorettore alla didattica Luciano Barboni, il prorettore ai rapporti con gli enti Andrea Spaterni e il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli. Guest star il divulgatore scientifico Luca Perri che ha esaltato i ragazzi a seguire le proprie passioni e a ricercare l'eccellenza. A moderare il dibattito è stato il giornalista Maurizio Socci. I partecipanti si sono poi collegati nelle stanze virtuali dei corsi di laurea dove i docenti hanno illustrato il corso proposto seminario e attività e gli studenti hanno potuto interagire in diretta facendo domande per chiedere informazioni o chiarire dubbi o semplici curiosità. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo costruendo dei percorsi formativi di grande qualità, dei percorsi formativi che faranno di voi domani quegli attori importanti grazie ai quali la nostra società sicuramente sarà migliore. Grazie a tutti. Vi mostreremo quei settori, quelle discipline che sono assolutamente strategiche per l'Italia e per l'Europa e cercheremo di farvi vedere il contributo di Unicam a quelle discipline. E soprattutto però voi sarete per noi non dei numeri, sarete delle persone con le quali poi noi continueremo questo percorso anche dopo, anche quando vi sarete laureati. Vi continueremo ad assistere, vi continueremo a formare, continueremo insieme a voi a produrre benessere per il Paese. L'Università di Camerino ha organizzato Porta Aperte Online in modo da offrire l'opportunità a tutti gli studenti e a tutte le persone che volessero venirci a conoscere di incontrarsi anche se in modalità virtuale. Non volevamo quindi perdere questa occasione nonostante l'emergenza legata al coronavirus. Per far questo è possibile collegarsi ad un'aula virtuale, ricevere il saluto del Rettore che ci darà il benvenuto in Unicam, così come la presentazione degli altri servizi e successivamente collegarsi all'aula di riferimento del corso di studio di interesse. Cosa succede nelle aule virtuali? Ci sono docenti, studenti, ricercatori, professionisti pronti a presentare l'offerta didattica, a far conoscere il percorso di studio, ma soprattutto con una grande attenzione alla proiezione nel mondo del lavoro. La cosa che mi sembra estremamente interessante da sottolineare è che sebbene sia un evento virtuale, in realtà è un evento in presenza. Pertanto non esitate a fare domande, veniteci a conoscere. Dal 20 maggio è anche attivo il sito www.unicam.it slash porte aperte online, nel quale sono illustrati dettagliatamente tutti i corsi di laurea, sia tennali che magistrali, a ciclo unico, anche attraverso video di docenti e di studenti e laureati dell'Ateneo. Prossimo appuntamento nel pomeriggio di sabato 30 maggio.